è un delegato, non si sono i delegati, non devono mandare un delegato, l'abbiamo invitato ufficialmente e lì c'è una persona che addirittura ha mandato la mail all'assessore per nome e per conto quindi non si può dire niente, adesso si procede ad una piccola cerimonia che è un segno piccolo di riconoscenza, prego Pasquale, è un po' come quando uno va sulla nave questo è il nostro Cagliardetto perché il nostro cuore è qui e volevo dire una parola questa oggi si chiama Associazione Culturale Madonna della Scala vedete quelle scala là? il primo gradino ha cominciato a salire insieme Pasquale e Giulia è lì la mandata e poi un secondo gradino e poi l'ultimo c'è la patrica ma c'è il piccio comunque è bello che anche la storia venga scoperta e percorsa a parte quella è lì scaldata, lo stesso giorno di Amelia Ress però con un piccadano di differenza questo signore ha detto a quale amorevole? lui ha il telefono, 13 sono andò, 8 e 5, 13, ha messo insieme e fanno 85, auguri Nicola e ringrazio anche a Pasquale che ha i sacrifici che sta facendo, da mattina a sera veramente vediamo noi l'impegno che ha e ringrazio anche a tutte le persone che collaborano con Pasquale che è una persona meritevole che ha creato una famiglia, stai venendo stamattina tutte le persone che vogliono bene a Pasquale va bene? grazie 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 grazie